allora ragazzi siamo quasi arrivati al lago maulazzo per il tenduring dei nebrodi si intravedono già le sue acque tra le fronde di queste querce mi dispiace che non potete percepire la temperatura e la frescura di questa di quest'area di fine luglio eccoci qua ecco a voi il lago maulazzo allora le tende già le abbiamo montate poi quando troverete la legna già raccolta e l'acqua al campo base saprete che dovete ringraziare lo zio pippo perfetto a che ore sono? è una rana estrella 8-9-20 già il campo è pronto tenduristi senza tenda 10-10 10-10 10-10 10-10 eccoli guarda qua il tenduring è da questo lato bellissimo tenduristi and 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 BOLLE! E' un po' di freddo. E' un po' di freddo. se dev'essero il giro dei laghi li dobbiamo vedere si vede pure il fumo di vulcano si vede pure il fumo di Grazie a tutti. 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 Dritto. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Montesoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 vediamo. di peperoncino. Grazie a tutti. 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 Sua maestà. No, che è lo stesso da un casco giallo. Che è lo stesso da un fumo? questo è l'obelisco di Nelson il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito il nostro corso gratuito il nostro corso gratuito il nostro corso gratuito 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.